Ci sono persone che in un anno, in un anno e mezzo partono da non saper leggere e scrivere, arrivano a prendere delle qualifiche professionali o di studio anche importanti e vengono inserite. Quello che cerchiamo di fare al centro di Settimo è partire dall'arrivo in Italia e cercare di costruire qualcosa insieme ai nostri beneficiari dei progetti, come si fa in una famiglia, come si fa per pensare al proprio futuro. Si cerca di capire che cosa la persona facesse al proprio paese, che cosa vorrebbe fare nel futuro, che cosa è capace di fare, che cosa vorrebbe imparare a fare. Quello che notiamo è tanta voglia di fare, tanta voglia di mettersi in gioco e tanta voglia di riuscire nella vita. Nell'ultimo anno scolastico abbiamo avuto 52 persone che hanno conseguito il diploma della terza media, che è un obiettivo importante per loro, un gran traguardo. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, sono stati selezionati un'ottantina di ragazzi che gradatamente stanno entrando nel mondo del lavoro. Attualmente sparsi per l'Italia a lavorare ne abbiamo più di 30. Grazie a tutti! Grazie a tutti!